Il Covid-19 continua a essere monitorato nella provincia di Caltanissetta. Nell'ultima settimana ci sono stati 26 pazienti positivi al coronavirus, tutti in isolamento domiciliare, così suddivisi nella provincia Nissena. 8 pazienti di Caltanissetta, 8 di Gela, 2 di Butera, 2 di Mussomeli, 1 di Campofranco, 1 di Marianopoli, 1 di Mazzarino, 1 di San Cataldo, 1 di Serra di Falco e 1 di Vallelunga Pratameno. I ricoverati in degenza ordinaria sono 5 pazienti di Caltanissetta, 2 di Gela, 1 di San Cataldo e 1 proveniente da fuori provincia, mentre sono stati dimessi dalla degenza ordinaria 4 pazienti di Caltanissetta, 1 di Gela, 1 di San Cataldo, 1 di Sutera, 1 di Niscemi e 3 provenienti da fuori provincia. Infine i guariti sono 14 pazienti a Gela, 9 a Caltanissetta, 2 a San Cataldo, 1 a Mazzarino e 1 a Serra di Falco.